Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Permangono alcune criticità legate al maltempo di questi giorni, raccomandiamo di mettersi in viaggio esclusivamente per motivi di necessità e di mantenere la massima prudenza alla guida, in particolare in prossimità di zone alberate. In Fipilì per gli eventi alluvionali, tratti chiusi tra Interporto Toscano Est e Lavoria in direzione Firenze, tra Lavoria e Colle Salvetti in direzione Livorno. Chiuso il bivio Firenze-Livorno provenendo dalla 12 in direzione sud. In A11 l'uscita di Lucca Est provenendo da entrambe le direzioni è chiusa per i mezzi pesanti con massa superiore alle 30 tonnellate e mezza. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Il maltempo provoca numerosi provvedimenti anche per il trasporto ferroviario in regione, tutti i treni interessati sui nostri canali social. Linea ferroviaria a sospesa tra Prato e Vernio almeno fino a mercoledì 8 novembre. Ed è tutto, buon viaggio!